Inaugurato ufficialmente stamane a Milano nella Biblioteca Centrale di Architettura il 152esimo anno accademico del Politecnico. Il Rettore Giovanni Azone ha sottolineato che quest'anno si sono iscritti ai test d'ingresso oltre 17.000 studenti, il 27% in più rispetto al 2010. Per l'ingegneria la crescita è stata addirittura del 40%. L'Ateneo milanese offre 21 corsi di laurea magistrale in lingua inglese rispetto ai sei previsti fino allo scorso anno. A questi corsi di laurea si sono iscritti 3.261 studenti stranieri, il 42% in più rispetto sempre al 2010. Negli ultimi cinque anni si è avuto un incremento di studenti del 9%, 3.377 giovani. Incrementata notevolmente la collaborazione con le aziende e il mondo imprenditoriale e alleanze internazionali sono state strette con università straniere a Parigi e a Berlino. Tra gli ospiti era presente Renzo Piano, architetto di fama mondiale, senatore della Repubblica e laureato alla Politecnico di Milano. Stiamo lavorando per cercare di dare nuove opportunità formative nel campo dell'architettura e con questo la presenza di Renzo Piano da questo punto di vista è molto importante perché proprio con la Fondazione Piano stiamo sviluppando dei workshop intensivi per i nostri studenti. Il Politecnico ha sempre molta attenzione anche per gli studenti stranieri. Sì, quest'anno abbiamo nelle nostre lauree magistrali una presenza di circa un terzo di studenti che sono studenti non italiani e che arricchiscono molto il valore della nostra formazione. Uscire dal Politecnico di Milano significa ancora avere buone possibilità nel mondo del lavoro. Sì, noi abbiamo quest'anno l'ultimo dato è circa il 90% di occupati entro un anno dalla fine degli studi con punte del 95-96% in ingegneria industriale dell'informazione. Quindi tassi che vengono confermati buoni, siamo in questo senso in controtendenza rispetto al resto del Paese che vede calare l'occupazione giovanile. Qual è la specialità che va meglio in questo momento? Vanno bene tutte, fortunatamente gli studenti possono scegliere quello che preferiscono e che ritengono più congeniale. Grazie a tutti.